Abbiamo avuto determinati argomenti, trattati determinati argomenti, quest'anno invece gli argomenti che sono già stati trattati e che seguiranno sono l'amore, che è stato oggetto di discussione il 16 gennaio con Nadia Fusini, questa sera parleremo del rancore con i professori Filippo Forcignanò e Aldo Bonomi e seguirà l'invidia di cui discuteranno Carlo Sini e Davide Assael. In seguito, come sapete, si parlerà della compassione, della paura e della nostalgia. È un ciclo che ha ottenuto particolare consenso e quindi sono molto lieta di continuarlo perché viene veramente ad incontrare degli interessi molto contemporanei, benché risuonino anche delle parole antiche, degli orizzonti antichi, si è costituita come una specie di sinergia. Per cui avviene questo incontro, che potrebbe sembrare paradossale, tra il mondo degli antichi e il mondo dei contemporanei. Questa sera parleranno di Filippo Forcignanò, che è ricercatore di storia della filosofia antica all'Università di Milano, e anche docente però di storia della filosofia, si è occupato dei presocratici, di Platone e di Aristotele e dell'ellenismo. Alla mia sinistra c'è invece il professor Aldo Bonomi, che insegna all'Oiulm e che si definisce sociologo del territorio. Sono interessantissimi, sono fatti i suoi studi, che mettono in connessione due aspetti estremamente diversi della contemporaneità, che sono il perseverare di una struttura territoriale, quindi solida, organizzata, diciamo geometrica, e i flussi che l'attraversano, che sono i flussi dell'immigrazione, i flussi dell'informazione, della finanza, e che cose apparentemente non contenibili, che invece comunque devono fare i conti con strutture territoriali che hanno una loro durante, una loro permanenza. sentiamo come questi temi, cioè come il rancore, venga a interferire appunto con queste diverse interrogazioni e dimensioni della ricerca. Do la parola al professor Filippo Forcignano. Grazie, grazie Silvia, grazie anche da parte mia a chi è venuto qui. Prima di calarmi del tutto nel ruolo di relatore, in quanto coorganizzatore, voglio ringraziare anche io il professor Bonomi per aver accettato questo invito. Abbiamo scelto di parlare del rancore con qualche esitazione, confesso, perché l'idea è proprio quella di mettere in rapporto l'antico e il moderno, e nell'antico il rancore è un tema globalmente poco battuto, non ha l'importanza che hanno altre passioni. Ci sembrava però irrinunciabile, soprattutto a Ferruccio sembrava irrinunciabile, giustamente introdurlo, perché se lo scopo è anche ottenere, come diceva Silvia, delle chiavi interpretative sul mondo contemporaneo, il rancore ci sembrava una passione sì negativa, ma in qualche modo impossibile da girare. Quindi io cercherò di parlare il meno possibile, perché insomma il vero ospite parlerà dopo, e vi dico quello che ho fatto e che volevo raccontarvi cercando informazioni e idee sul rancore nel mondo antico. non è così facile, perché la prima definizione vera e propria del rancore, su cui mi soffermerò dopo, l'ho trovata negli stoici, e non ho letto altri che sappiano trovarne una vera e propria definizione chiara altrove. Dunque, in epoca ellenistica, ma c'è tutto un prima, in cui evidentemente manca una tematizzazione, ma non manca la passione, non manca il sentimento, non manca quello stato d'animo, cui noi ci riferiamo con la parola rancore. Dunque ho assunto una definizione molto generale, che è una sintesi di alcune proposte lette nei dizionari, banalmente, e così mi sono mosso sul panorama antico. Assunto cioè che il rancore sia un sentimento misto, cioè un misto di ira e desiderio di vendetta. Questo è, come dire, una definizione molto di massima. E la cosa che ho notato è che né i dizionari né ad alcuni teorici, soprattutto in filosofia, è possibile definire il rancore senza elencare un altro ampio numero di passioni. Principalmente l'ira, e l'ira per gli antichi è il genere del rancore, cioè il rancore è una specie dell'ira. La vendetta, l'odio, la frustrazione, la paura, senza altre passioni, per lo più negative, risulta molto difficile definire il rancore. Però è anche chiaro, e gli antichi fanno uno sforzo molto impegnativo in questo senso, di cercare di definire differenze, diciamo così, in prossimità. Cioè è come se l'ira fosse un continuo, e su questo continuo fosse possibile isolare un momento che non è identico né a quello che segue né a quello che precede, e che possiamo chiamare rancore. Dunque lo sforzo è di dire in cosa è diverso rispetto a cose estremamente simili, perché il rancore altro non è che una forma d'ira. Dunque bisogna differenziarlo dall'ira, se si riesce, o dire in che cosa non è un caso generico di ira, ma è un caso specifico. In filosofia il rancore e il risentimento è molto dibattuto negli ultimi 150 anni, prima Nietzsche, poi Scheler, e oggi nella filosofia americana analitica c'è molto dibattito su questo. E ho trovato una interessante indicazione in un filosofo che si chiama Solomon, Robert Solomon, il quale dice fondamentalmente che due sono i casi dell'ira, uno è il rancore, l'altro è il disprezzo, la differenza è che il rancore va verso l'alto e il disprezzo verso il basso. Cioè il rancore riguarda qualcuno che ha uno stato sociale più alto di quello che prova rancore, mentre il disprezzo uno che ha uno stato sociale più basso. Però non si riesce ad applicare questa distinzione al mondo antico in modo meccanico, nel senso che ci sono casi in cui questo sicuramente non vale, ma è ovvio perché il contesto sociale è talmente diverso che difficilmente può valere una definizione di questo tipo. Dunque mi sono chiesto come i greci dicano il rancore, cioè se esista una terminologia o meno del rancore. E ho isolato due termini, un sostantivo e un verbo, che faranno un po' da traccia, che faranno un po' da binari di quello che dirò oggi. Il sostantivo è kotos, che vuol dire rabbia, ma diciamo che vuol dire anche rancore. E il verbo, un verbo interessante di cui parlerò nella seconda parte del mio intervento, è il verbo amnesica keen, che è un verbo che colloca il rancore non nella dimensione psicologica dell'individuo, ma in quella politica della società. E vorrei lasciarlo in seconda parte del mio intervento, che faccia da ponte verso la modernità. La cosa interessante è che ho guardato in Omero, nei tragici, le occorrenze appunto della parola kotos, che può voler dire rancore e in molti casi non lo vuole dire, nel senso che indica semplicemente una collera, indica una collera, che non riusciamo a distinguere dagli altri tipi. Ad esempio, se il rancore non si manifesta immediatamente, ma è trattenuto, covare rancore, serbare rancore, ci sono casi in cui questa parola non vuol dire niente del genere. Quindi non è facile andare a trovare nel mondo antico occorrenze chiare. Tuttavia, il primo libro dell'Iliade mi ha fatto notare una cosa che non avevo mai notato, anche perché io non mi occupo principalmente di letteratura, ma di filosofia antica, cercando di rileggere quello che dell'Ira viene detto nel primo libro dell'Iliade, Ira è la prima parola non solo dell'Iliade, ma della letteratura occidentale ed europea, ho trovato un passo molto interessante, dopo una sessantina di versi dall'inizio, in cui Calcante si alza in piedi, prende parola e dice ad Achille che gli viene chiesto di spiegare l'Ira, Menin, cioè la prima parola ritorna, l'Ira di Apollo, e lui lo dirà, cioè dirà in cosa consiste l'Ira di Apollo, ma ha bisogno di protezione, dice, perché sto parlando di qualcosa che farà dirare una persona potente, un re, dice, seguito dagli Achei, e quando questo succede, dice, quando un uomo di forte potere è irritato da un uomo di potere inferiore, se quel giorno deve digerire la collera, colos, dopo conserva il rancore, cotos, nel petto, fino a quando lo soddisfa. È interessante che in Omero si trovi, come dire, chiaramente in un passo, una distinzione tra forme d'Ira, una distinzione lessicale, che tenta di rendere conto di una forma d'Ira che non si manifesta immediatamente, ma che attende il momento di manifestarsi, attende il momento di portare vendetta. È interessante perché è evidentemente uno sforzo culturale, data anche la formazione dei poemi omerici, di determinare una passione, appunto, differenziandola dall'altra. Cioè c'è una collera che si manifesta subito, e c'è una collera che invece non si può manifestare subito, ad esempio perché c'è una differenza forte nella gerarchia sociale di chi prova questa collera, e quindi rimane, come dire, sopita, in attesa però di una vendetta. Questo è molto interessante perché ci dice qualcosa in più, cioè ci dice che il rancore attende, cioè c'è un elemento importante che lo differenzia dall'Ira, che lo differenzia dall'Ira in quanto tale. E, ad esempio, pensavo di trovare occorrenze simili nel filottete, perché se c'è uno che può provare il rancore è sicuramente filottete, non ho dubbi che filottete provi il rancore, ma fondamentalmente niente del genere a livello lessicale si trova. Quindi è un passo molto interessante, anche perché avrà una continuità. Come dicevo, la trattazione più ampia dell'Ira, e, come dire, più articolata, è quella di Aristotele, ci arrivo. Ma una definizione che dipende da quella di Aristotele, ma che è una definizione a tutti gli effetti sconosciuta, in termini così chiari, prima degli stoici, l'ho trovata nei frammenti, appunto, degli stoici, in particolar modo in alcuni frammenti che si riferiscono all'etica di Crisippo. Sono fonti molto diverse, questa è una cosa interessante, nel senso che una è il trattato sulle passioni dello Pseudo Andronico, l'altro è Cicerone e il terzo è Nemesio, quindi contesti molto diversi, e in questo catalogo delle passioni che troviamo in Andronico c'è ampio spazio alle forme dell'Ira. È interessante perché l'Ira viene trattata all'interno di una teoria del desiderio. Cioè l'Ira è fortemente connessa a una teoria del desiderio, e questo dipende da Aristotele, ma lo dico un attimo dopo perché preferisco dire prima la definizione. Nel senso che in questo catalogo esiste un'Ira, diciamo, generale, che chiamano Orgè, cioè un termine diverso da quello di Omero, ma che è l'Ira, l'impulso, che consiste nel desiderio di vendicare un oltraggio. Dunque è evidente che la vendetta non specifica il rancore per gli antichi, cioè il desiderio della vendetta da solo non basta specificare il rancore, perché quello è proprio anche dell'Ira in senso generico. Cioè l'Ira è, come dire, un sentimento che prevede la vendetta. Poi c'è un'Ira che diventa aggressiva, appunto l'Othimos, dicono, un'Ira che monta colos, la bile letteralmente, e poi c'è un'Ira che aspetta il momento opportuno per vendicarsi, e questo appunto è chiamato kotos, rancore, possiamo dire. Quindi l'elemento interessante è il tempo, è il tempo, a mio parere. Cioè mentre nella definizione dell'Ira come sentimento che guarda la vendetta, il fattore temporale in qualche modo non c'è, nel rancore è necessario introdurlo per poter capire di che cosa si sta parlando, cioè di un'Ira che deve attendere. Un'Ira che deve attendere. E Cicerone lo conferma perché fa un catalogo a fine, e poi dice che l'inimicizia, che io qui intenderei come rancore, è appunto l'Ira che osserva il momento giusto per vendicarsi. Interessantissimo che Nemesio dica kotos, che appunto è l'Ira che attende il momento per vendicarsi, si chiama così perché deriva dal verbo keiza, che vuol dire stare fermo. Cioè c'è, come dire, un'Ira che deve stare ferma. Però stare fermo non vuol dire che non aumenta, non vuol dire che non monta, non vuol dire che non vuole vendicarsi. Quindi l'elemento dell'attesa, che era quello che avevamo trovato in Omero, viene a un certo punto codificato dagli stoici in questa definizione. La cosa interessante, e che credo sia curiosa anche per noi, è perché mai l'Ira sia una forma del desiderio. Cioè perché parliamo dell'Ira parlando del desiderio. E questo lo ha chiarito una volta per tutte, a tutti gli antichi, almeno ai filosofi, Aristotele nella retorica, in particolar modo nel secondo libro, quando presenta un catalogo, un elenco di passioni. Perché l'Ira, che lui appunto chiama Orgè, l'Ira è una orexis, dice, è un desiderio, è una tensione verso qualcosa, che si accompagna sempre al dolore. Quindi c'è una sorta di fisiopatologia della passione. Ogni passione si accompagna al piacere o al dolore, e l'Ira si accompagna sempre al dolore, e al desiderio di una vendetta. Cioè l'Ira è una forma del desiderio, perché l'Ira desidera la vendetta. Quindi ancora, anche Aristotele ci conferma, che per gli antichi non basta la vendetta per qualificare il rancore, perché la vendetta qualifica l'Ira in senso generale. Questa mi sembra una cosa interessante. Cioè se vale la definizione di alcuni dizionari secondo cui il rancore è un'Ira che vuole vendicarsi, per gli antichi questo non è il caso, perché manca un elemento davvero discriminante, perché l'Ira è sempre accompagnata alla vendetta. E l'elemento discriminante appunto è temporale, di natura temporale. Il punto è che l'offesa, dice Aristotele, che si vuole vendicare, deve essere manifesta, deve essere pubblica, deve essere chiara. E in questo modo si inizia a introdurre un contesto sociale in questa fisiopatologia delle passioni, perché deve essere manifesta anche agli altri. Cioè sono contesti ancora molto pubblici, dove l'onore si difende pubblicamente, dove la vendetta si compie pubblicamente. Dunque un'offesa è un'offesa se è chiara, se è chiara anche alla collettività. E viene giudicata non meritata. Cioè se chi la subisce ritiene di non doverla meritare. Quindi l'Ira scatta per questo. Dunque, dice Aristotele, l'Ira, e di conseguenza anche il rancore, è diverso dall'odio, perché l'Ira è sempre individuale, mentre si possono odiare dei generi. Cioè io posso odiare i ladri, dice Aristotele, ma non posso arrabbiarmi con i ladri. Posso arrabbiarmi con quel ladro lì che ha fatto qualcosa, ma non posso arrabbiarmi con una categoria. Posso odiarla, dice Aristotele. Quello sì. L'odio può essere tanto individuale quanto generale, mentre l'Ira secondo lui no. La cosa interessante è che aggiunge Aristotele che l'Ira ha una dimensione piacevole in seconda battuta. Cioè l'Ira si manifesta come un desiderio accompagnato da dolore, cioè un desiderio di vendetta accompagnato da dolore. Ma poi gli uomini hanno una facoltà che lui chiama fantasia, cioè immaginazione, che fa pregustare il momento della vendetta. Cioè c'è un, come dire, un crogiolarsi in questa immaginazione che fa costruire, anticipare il momento della vendetta e questo porta piacere. E questa è una cosa molto interessante, a mio parere, proprio molto sottile, che Aristotele vuole sottolineare. Per cui l'Ira si accompagna al dolore, ma in seconda battuta tramite l'immaginazione può generare una forma in qualche modo di piacere perché ci fa pregustare la vendetta. Ovviamente stiamo parlando di contesti in cui la vendetta è un fatto normale, non eccezionale, perché altrimenti, come dire, sembra che Aristotele stia parlando di individui con disturbi o con una psicologia particolarmente sadica. In realtà in contesti di quel tipo è assolutamente normale ed è quindi normale pregustare il momento in cui la vendetta ci sarà. Che cos'è un'offesa? Cioè perché dovremmo volerci vendicare? Aristotele è molto sottile ancora, dice un'offesa non è un termine generico, l'offesa può darsi solo in tre modi, dice lui, il disprezzo, il dispetto e l'oltraggio. Il disprezzo è quando qualcuno considera qualcun altro irrilevante, nonostante non dovrebbe, ad esempio perché è socialmente più in alto di lui o perché è socialmente riconosciuto. Il dispetto è quando qualcuno viene ostacolato nelle proprie ambizioni, nei propri obiettivi, senza che l'altro tragga beneficio. Cioè lo fa solo perché lo disprezza. Mette un bastone tra le ruote qualcuno non perché abbia un guadagno, ma perché disprezza che qualcuno possa fare qualcosa. E infine la hybris o l'oltraggio, chiamiamola come vogliamo, che è proprio l'accusa pubblica portata dalla città, motivo di gravissima vergogna, che dice Aristotele può portare al suicidio. Perché faccio preciso questa cosa? Non solo per completezza, ma perché torna il tema della superiorità. Cioè l'offesa è compiuta dall'alto in basso e il rancore si genera in un contesto di questo tipo. L'ira, cioè il rancore, si genera in un contesto di questo tipo. Questo è, diciamo, quello che risulta cercando di discutere e di trovare negli antichi una psicologia del rancore che ha una sua dimensione ancora in qualche modo privata. Privata ovviamente, per come può averlo un antico, alla luce di quello che dicevamo prima, è un privato che si affaccia nel pubblico. Però non è una forma di rancore di una collettività. Non è una forma di rancore di una collettività. Non ho trovato casi in cui, ad esempio questo termine, kotos, indichi un rancore di una parte della città, ad esempio, verso un'altra. Questo è affidato a questo strano e molto bello, a mio parere, verbo, mnesi cacheo, che è composto dalla radice indoeuropea mne, quella della memoria, e i mali, caca i mali. Letteralmente il verbo vuol dire ricordare i mali. Ricordare i mali. Cioè ricordare i mali passati che si sono subiti e cercare, per questo, la vendetta. Cercare la vendetta. Aristotele spiega questa cosa, poi ci arrivo anche in contesti storici, è uno dei più brillanti curatori della Costituzione degli Atenesi, commentatori, dice in inglese, lui dice, è facile capire cosa vuol dire questo verbo, ma in inglese è difficilissimo tradurlo, perché vendicarsi perde completamente il senso del verbo che ha appunto la memoria e il male, e soprattutto la vendetta è quello che segue da ricordare i mali, ma ricordare i mali non sembra implicare la vendetta a noi che leggiamo. Dunque è un verbo molto complesso che determina un sentimento molto preciso, sociale, politico, una cosa che può lacerare la città. Non è un caso che, ad esempio, come dire, questa cosa ci sia in iscrizioni, che testimoniano di accordi pubblici, cioè diventa a un certo punto un modo tecnico di riferirsi a un particolare scontro all'interno della città. E ci sono casi molto interessanti, ci sono casi interessanti in Erodoto, ci sono casi interessanti in Tucidide, prima no. E' interessante perché è sempre, almeno fino a metà del III secolo a.C., accompagnato da una negazione, il che vuol dire che normalmente si ricordano i mali passati e si vuole vendicarli, ma ci sono casi in cui è sconsigliabile farlo per la tenuta della città. Non è il contrario, non è che normalmente si perdona per i greci, ma ci sono casi in cui non lo si può fare, normalmente non lo si fa, ma ci sono casi in cui ne va della salvezza della città, dunque è opportuno farlo. Erodoto ad esempio racconta nel terzo libro che a un certo punto nel 525 i Corinzi parteciparono attivamente a una spedizione contro Samo, appunto perché Mnesica Cain, perché ricordavano una precedente offesa condotta da una città, quindi non più da un individuo. E alla prima occasione scesero in guerra senza un interesse diretto e specifico per vendicare un torto che covava nella città, cioè l'intera città provava nei confronti di un'altra un sentimento di rancore che aspettava il momento buono. Arrivato al momento buono ecco la guerra. E' molto interessante anche un passo dell'ottavo libro sempre erodoto in cui c'è un messaggio dei tessali e i focesi, non è importante tanto il contesto, ma gli ambasciatori si presentano dicendo praticamente questo. Noi abbiamo la forza per vendicarci, ma non lo faremo a fronte di un cospicuo pagamento in talenti d'argento. Cioè noi il rancore lo proviamo. Però in fondo davanti a una tassa molto ricca possiamo dimenticarlo. Possiamo dimenticarlo. E questo è interessante perché viene sancito da queste formule appunto memnesi kakein, umnesi kakeso, cioè formule proprio precise, tecniche, per dire facciamo un patto in cui noi sospendiamo il nostro rancore. La domanda è se il rancore poi possa davvero essere sospeso. Perché un conto è punire coloro che cercano richiamandosi al passato di attuare vendette. Un conto è fingere che queste non siano accadute. E su questo Tucidide fornisce un campionario piuttosto interessante. Io ho isolato due casi che ho trovato appunto curiosi. Il primo si riferisce a una stasis, a una guerra civile nel 424 a.C. a Megara in cui si scontravano tre fazioni. Una filotenese una filo spartana e una di esuli filo oligarchici. A un certo punto succede questo. Lo leggo perché secondo me è interessante. I Megaresi, amici degli esiliati, poiché ritenevano che Brasida fosse vittorioso e che gli atteniesi non avessero più voluto combattere, acquistarono maggior fiducia e aprirono le porte ai comandanti delle città alleate. Li accolsero mentre quelli che avevano negoziato con gli atteniesi erano ormai terrorizzati e entrarono in trattative con lui. Più tardi, dopo che le truppe degli alleati si furono separate, Brasida stesso fece ritorno a Corinto e proseguì i preparativi per la sua spedizione in traccia. Tra i Megaresi della città, dopo che anche gli atteniesi erano ripartiti alla volta di Atene, coloro che erano stati maggiormente coinvolti nelle trattative con gli atteniesi, sapendo che erano stati riconosciuti, subito uscirono segretamente dalla città. Gli altri, riunitisi per discutere con gli amici degli esiliati, fecero ritornare dall'esilio quelli di Peghe dopo aver legati i congiuramenti, pieni di solenni assicurazioni, con cui promettevano di meden mnesica chesein, di non fare rappresaglie, di non dare sfogo al rancore e di deliberare che ciò fosse più vantaggioso per la città. Ma questi, appena entrarono in carica, passarono in rivista le armi e dopo aver separato le compagnie, sceltono un centinaio tra i loro nemici, tra quelli che si riteneva avessero collaborato maggiormente con gli atteniesi e costringendo il popolo a esprimere apertamente un voto su di loro, e questo, come dire, è interessante, si possono fare promesse solenni che avevano un certo valore, ovviamente un certo peso, ma il rancore è difficile da cancellare, dunque in caso di squilibrio accettare la promessa di non vendicarsi non vuol dire non vendicarsi e quindi questo è un caso come dire in cui il rancore non cessa con un accordo, però ci sono anche casi in cui succede, ad esempio la stasis di Sammo del 411, Tucci di racconta che succede esattamente questo, cioè la parte che ha vinto i democratici offre alla parte oligarchica la possibilità di dimenticare il passato, questo succede, è vero che precisa che la parte oligarchica senza leader e senza forza comunque non poteva andare da nessuna parte quindi accettano di buon grado ma lì dice non succede niente, cioè dopo vissero sotto la democrazia senza ulteriori fratture, dunque non è detto che il rancore possa distruggere una città o la distrugga sempre ma può farlo e questo è il dato il dato rilevante e mi avvio a concludere citando quello che è il caso più clamoroso e cioè la situazione ad Atene dopo i 30 tiranni cioè dopo il colpo di stato del 404 che fu violentissimo causò un numero di morti enorme e una violenza concentrata in pochi mesi ma inarrestabile terribile il problema fu cosa facciamo dopo a ritorno dei democratici cosa facciamo adesso di chi ha collaborato con i 30 tiranni e fu proprio fatto un decreto ufficiale in cui compare appunto l'espressione Mne Mesica Cain di non ricordare i mali che però era faticoso era faticoso perché ovviamente quelli che rientravano avevano vantaggio che i mali fossero dimenticati ma non tutti quelli che avevano subito i mali erano pronti a dimenticarli e Aristotele nella Costituzione degli Atenesi racconta come fu fatto capire a tutti che conveniva dimenticarsi i mali quando uno dei reduci cominciò a recriminare sul passato cioè uno che disse ma io di dimenticare stragi ma sa che non ho la minima voglia fu di trascinarlo la soluzione fu di trascinarlo davanti al consiglio e di riuscire a farlo condannare a morte senza processo Archino disse infatti che quello era il momento di dimostrare se volevano davvero conservare la democrazia e rimanere fedeli ai giuramenti se avessero assolto costui avrebbero incoraggiato anche gli altri a fare lo stesso ma se l'avessero ucciso avrebbero dato un esempio a tutti e così accadde infatti dopo la sua morte nessuno più si lamentò del passato è molto interessante che come dire il modo in cui fu convinta una parte della popolazione democratica a non ricordare il passato fu l'esempio di questo anonimo condannato a morte senza processo condannare il passato stava male come dire ma soprattutto si rischiava di morire e questo fa capire anche Archino uno di quelli insomma della restaurazione democratica comunque una sorta di intelligenza diabolica dietro questa iniziativa cioè la comprensione che il rancore è una passione fortissima quando è nel corpo sociale che lo lacera e non si può a un certo punto dire va bene per convenienza per il bene collettivo adesso dimentichiamo perché in fondo non dimentica mai nessuno e il modo per che questo non diventi vendetta palese è far capire che questo comporta dei rischi e chiudo con un punto questa cosa qui è molto chiara in un documento che io credo sia di Platone cioè la settima lettera un documento come dire straordinario importante in cui a un certo punto Platone che scrive ai siracusani in un contesto molto complicato scrive alla fazione che gli è vicina che in quel momento io credo avesse il potere quindi scrive a gente che ha vinto e a un certo punto dopo la metà della lettera dice vi do un solo consiglio le guerre civili cessano solo quando sono i vincitori che decidono di rinunciare alle stragi quando sono i vincitori che rinunciano alle espulsioni alle battaglie allo scontro dunque se volete la pace a Siracusa ora che avete vinto siete voi che dovete come dire smettere con la vendetta e per farlo bisogna in qualche modo dimenticare quello che secondo me dobbiamo chiederci e possiamo chiederci è se questo sia davvero possibile grazie ringrazio il professor Forcignano di questa splendida relazione che mi sembra emblematica dell'interesse del confrontare gli antichi e i moderni perché gli antichi hanno una ricchezza di categorie interpretative una finezza di analisi che possono veramente essere utilizzate per comprendere il nostro tempo così diverso ma per certi aspetti con delle analogie che ci permettono di creare dei trade union insperati io posso dire una parola sentendo questa relazione ho pensato che cosa avrebbe detto Freud di fronte a questi dati io credo che li avrebbe inseriti nel disagio della civiltà vedo che l'ira è una una manifestazione passionale degli dèi e degli eroi quindi dell'uomo per eccellenza dell'uomo libero mi sembra che invece il rancore nasca da un'inibizione dell'ira in fondo la paura si è detto che del rancore fa parte anche la paura l'ira fa paura fa paura delle conseguenze possono sfuggire di mano è difficilmente controllabile l'ira quindi si passa al rancore nell'ambito quella dialettica che non cessa mai di esistere tra istanze passionali e istanze contropulsionali noi non assistiamo mai nella nostra cultura a una manifestazione pura delle passioni ma sempre a una tensione tra spinte pulsionali e controlli antipulsionali quelle che Freud coglie proprio nel disagio della civiltà quando dice siamo infelici e forse probabilmente mai riusciamo a superare rispondo negativamente alla possibilità di superare le passioni negative però possiamo inibirle possiamo controllarle e la scoria ad esempio dell'ira che non viene espressa perché la paura la frena la scoria mi sembra il rancore questo in fondo noi che dopo secoli di civiltà abbiamo sofferto diciamo sofferto freudianamente il controllo delle pulsioni e delle passioni siamo una società forse più rancorosa che irata adesso darei la parola al professor Aldo Bonomi che ha scritto proprio un libro sul rancore grazie dell'invito per due ragioni molto semplici la prima ti avessi incontrato prima mi sarebbe stato molto utile in un percorso formativo problematico e sofferto nella contemporaneità di cui darò conto che mi ha portato seguendo la conduttrice a confrontarmi ad esempio con Eugenio Borgna di cui ho ragionato e scritto lui ha titolato il libro che abbiamo fatto assieme Elogio della depressione io volevo titolarlo molto più volgarmente Depressi di tutto il mondo un'Italia chiaro poi abbiamo discusso molto rispetto a questo in questo c'è già un pezzetto della mia sofferenza nel tardo novecento quando ho dovuto passare nell'analisi della società dell'economia e della politica a confrontarmi con i sentimenti il sentire quindi darò conto di questo ragionamento proprio perché come tu giustamente hai definito il rancore è un sentimento che rimanda all'ira la vendetta la rabbia e poi lì quella parolina che ci costringe a radonare dei tempi dell'oggi la politica quindi grazie per questo grazie per un secondo motivo lo dico a Ferruccio questo questa casa è un luogo che si è già messo in mezzo in anni assai difficili a temperare e credo che ci sia bisogno di luoghi che si mettono in mezzo per temperare il rancore e lo dico partendo dal mio ultimo libro visto che voi ragionerete anche di paura nel labirinto ti prende la paura Kafka la chiamava la parte migliore di me chi di noi non è impaurito vero per chi è in grado di farne una letteratura da trasformare in visione critica del mondo ma il nostro labirinto da sociologia delle macerie su cui torno non induce coscienza di sé quanto più la paura non trova luoghi sociali di decantazione e di elaborazione emotiva luoghi sociali questo è un luogo sociale non è forse questa la politica se non si incontra questi luoghi di decantazione ed elaborazione emotiva tanto più tende a trasformarsi in rancore e odio verso l'altro da sé altro che speranza quanto mi pare il punto e quindi torno volentieri in questa casa che ha questa funzione di luogo di decantazione ed elaborazione emotiva perché io ci sono arrivato nel tardo novecento e vi parrà strano sono arrivato poi a ragionare con Eugenio Borghi a ragionare con i miei amici filosofi Roberto Esposito Massimo Cacciari che citerò rispetto a questi temi ma io ci sono arrivato da sociologo del territorio il rancore l'ho visto venire avanti nella mia pratica territoriale nei luoghi era il tardo novecento e ho mi sono accorto di una cosa molto semplice che la cassetta degli attrezzi con cui ragionavo e cercavo di capire la composizione sociale i modelli di sviluppo io dirigo un istituto di ricerca che si occupa di sviluppo del territorio di sviluppo locale insomma poi per essere chiari per capirci e per dare nome e cognomi alle cose il leghismo l'ho visto venire avanti nel tardo novecento nelle vallate alpine i primi segni di spaesamento e di rancore quando l'elita aristocratica diceva ma sono quattro becilli che non sanno altro che parlare in dialetto lascia perdere non ti occupare di loro altre sono le grandi questioni della contemporaneità i luoghi i luoghi ma perché io mi accorsi allora che non mi funzionava più la cassetta degli attrezzi che era una cassetta molto semplice basata non sul sentire ma sugli interessi il novecento è stato il secolo dell'interesse il fordismo è stato l'architrave degli interessi la cassetta degli attrezzi che mi funzionava e che non mi funzionava più era semplice dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei ma non solo ti dirò chi sei ti dirò anche dove abiti in quale cerchio della polis della città in quale dimensione del territorio e più o meno riusciremo anche a capire cosa voti qual è la tua appartenenza la tua identità e da allora uno che di flussi poi arrivo se ne intendeva più di me il compianto Giovanni Arrighi mi insegnò semplicemente alcune cose mi disse Aldo non basta più bisogna incominciare a porre una moltiplicazione delle domande perlomeno dire e questo lo capiamo tutti l'abbiamo capito dopo di che genere sei almeno quello prima domanda seconda di che nia sei da dove vieni terza cosa qual è il tuo tasso di mobilità qual è la tua Weltanschauung io dice che mi devo occupare di Weltanschauung è chiaro sentire mentre invece prima mi occupavo di queste dinamiche e da allora io ragionai e entrai dentro una categoria che era quella della moltitudine prima era semplice avevi la cassetta degli attrezzi che era parliamoci chiaro la dimensione delle classi variamente intesi con l'ultimo grande che ci aveva insegnato e sto citando Silos Labini che era venuto avanti anche il ceto medio la ceto badizzazione che non poteva più ragionare solo proletariato ci siamo capiti dove metterci dentro i centimedi ma fondamentalmente e anche lì Ferruccio se ne ricorderà quanto me il dibattito se la moltitudine fosse il nuovo soggetto della rivoluzione o una categoria sociologica risposta mia categoria sociologica da scomporre e ricomporre perché la moltitudine è la dimensione di massa senza più il sistema ordinatorio delle classi allora il venire avanti del sentire l'ho visto dentro questa scomposizione ma perché perché sono arrivato a capire e a usare questa parola chiave oggi è diventato un tantinello un po' troppo di moda poi chiuderò rispetto a questo l'ho detto all'amico Beppe cioè di Rita va bene ok calma bisogna ritenere anche d'altro però ecco ci sono arrivato in questo modo perché ho capito e ho ragionato su quello che io chiamo il salto di paradigma il salto di paradigma era che nel tardo novecento il meccanismo delle passioni era governato e contenuto in quel paradigma che noi che abbiamo passato i sessanta per capirci conosciamo bene che è il paradigma del novecento capitale lavoro stato in mezzo capitale è variamente inteso statualità quando dico statualità intendo dire dallo Stato alle regioni alle province che non ci sono più ai comuni ai comuni polvere e virgolette l'Europa di cui ragioneremo nei prossimi mesi capitale lavoro è stato in mezzo lavoro non si dice più al singolare chi lo dice al singolare ormai non ha capito i lavori capitale variamente inteso ma il vero problema è che nel tardo novecento viene avanti i flussi che impattano nei luoghi li cambiano antropologicamente culturalmente socialmente politicamente la metamorfosi è avvenuta lì è una questione antropologica pre-politica da tanti punti di vista e mi dice ma che è questi flussi ma i flussi sono la finanza la faccio breve la finanza le transnazionali le internet company le reti la tab è una rete le reti le migrazioni sono un flusso veniva avanti venivano avanti e cambiavano il sentire gli interessi e il sentire e quindi il vero problema è che non si capisce la dimensione del sentire se non si capisce il salto di paradigma e quindi non è un problema di arretratezza è un problema di ipermodernità questo è il punto e quindi io ho incominciato a ragionare partendo dal trionfo della moltitudine dicendo guardate che è crollato il patto social democratico questo è il punto sull'ora donata perché e qui il problema e quindi ti avessi incontrato prima il problema è che io ho dovuto dar forma in questo scomporre e ricomporre la moltitudine a dei comportamenti collettivi caratterizzati dal sentire che la filosofia classica ci riporta all'individuo e dove ho visto venire avanti queste cose e nel categoria che ho abbozzato punto primo una prima forma che ho visto è quella dello spaisamento dove ho rivetto Simon Bell Simon Bell che ci che ci ha insegnato attenzione ogni sravicato sravica gli spaisati e guardate erano spaisati a noi poco simpatici gli spaisati delle vallate alpine quelli che avevano paura letteralmente di rimanere senza paese che era quel luogo dell'identità oggi dopo vent'anni o trent'anni siamo arrivati tutti a ragionare i piccoli comuni i comuni polvere l'ecologia della montagna ci siamo arrivati ma allora il problema era lo spaisamento a fronte dei flussi che venivano avanti spaisamento paura di rimanere senza paese dentro il quale c'era meccanismo della comunità originaria della comunità di prossimità della famiglia poi c'erano e Ferruzzo se ne ricordano perché qui ne abbiamo ragionato gli orfani del fordismo io sono orgoglioso di aver fatto qua con Riccardo Terzi che non c'è più e con Agostinelli Mario Agostinelli segretario della CGL le prime ricerche sugli orfani del fordismo quando ci siamo accorti che gli operai votavano Lega ma non perché erano diventati bastardi e fascisti scusate se uso termini antichi del novecento ma perché avevano introdotto a fianco della difesa dei loro interessi il tema dell'identità è un bel tema eh ragazzi eh orfani del fordismo ed erano orfani di che cosa di quello di cui eravamo orfani neanche noi quel grande organigramma capitale lavoro stato in mezzo che ti garantiva e quindi orfani del fordismo stressati e anche qui sempre andando sul territorio e seguendo la composizione sociale la prima volta che ho sentito delle assemblee contro la globalizzazione e mica le ho sentite dal mio amico Casarini o da Marco Revelli per capirci con cui ho frequentazioni costanti ho cominciato a sentire non era ancora non ancora ma serpeggiava eh quando andavo alle assemblee degli artigiani dei piccoli imprenditori che dicevano non ce la facciamo più c'è la concorrenza internazionale bisogna mettere i dazzi eccetera prima prima di Genova quando poi noi abbiamo assunto questo tema abbiamo posto la questione della globalizzazione noi in senso abbiamo posto la questione della globalizzazione per dire che questi processi sono entrati dentro le vite minuscole spaisati orfani del fordismo stressati dalla globalizzazione e quindi lentamente ho denominato questo processo il rancore con un sottotitolo quando scrissi quel libro il sottotitolo era come questa cosa emergeva in primo luogo soprattutto 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 in una specie di rivendicazione territoriale quindi avevo legato in parte il rancore a se vogliamo l'emergere del dibattito questione settentrionale eccetera eccetera però io avevo detto sul territorio sta avvenendo questo il rancore sta avvenendo davanti il rancore il rancore non avevo ancora conosciuto lui preso dal devoto Oli preso dal devoto Oli da ignorante in materia da figlio del novecento con virgolette gli interessi in zucca vado a vedere e mi dice dicasi rancoroso colui che ritiene di aver subito un torto e ragazzi quanti ce n'erano dentro virgolette la grande metamorfosi perché mi sono fermato ai territori senza arrivare poi ovviamente a precari ripartite IVA nuove forme di lavoro autonomo che arrivavano poi dove? dentro la dimensione metropolitana e tutti credono di aver subito un torto oppure che non gli veniva riconosciuto riconosciuto un verito erano tutti incazzati come iene mi dicevano ma come cosa ho fatto di male io ho messo al lavoro tutta la famiglia mi sono sfruttato ho cercato di far tutto e adesso non ce la faccio più ci sarà pur qualcuno che ha colpa di questo e avanti a cercare il capo espiatorio e devo dire che senza i luoghi politici di elaborazione del sentire di decomposizione di questo è chiaro che chi non è uno che pensa di aver subito un torto alzi la mano anche stasera credo che qualcuno di noi e beh io un torto nella vita almeno lo subito oppure non gli sia stato riconosciuto un merito diventa semplificazione il problema è però arriviamo verso le conclusioni e quindi nel libro successivo proprio per dire attenzione dobbiamo scomporre e ricomporre sta roba non farne virgolette semplicemente un'operazione di marketing guardate che sta succedendo una cosa sotto la pelle dello Stato sotto la pelle dello Stato rancore cura operosità ed è lì che sempre rovistando la cassetta degli attrezzi e cercando di formarmi per capire sono arrivato ad affrontare una parola chiave delicatissima che è comunità che è una parola che va presa con le pinze ricordando che nel tardo prima del secolo breve nel novecento in nome di quella parola si è ragionato di comunità di destino di un popolo contro un altro l'abbiamo appena celebrato quindi comunità e da allora sono andato a scavare e io leggo rancore e comunità assieme e ovviamente lì ho discusso con la filosofia della modernità quindi mi ha aiutato lui ma poi mi hanno insegnato e quindi mi sono studiato Jean-Luc Lansy che dice la comunità inoperosa cioè la comunità dispaisata e orfana non lavora più non tiene più assieme non si tiene più poi ho ragionato con Giorgio Gamben la comunità che viene attenzione non la comunità qui è subito rancorosa e inserrata la comunità come forma aperta che viene avanti dentro i grandi cambiamenti poi con Roberto Esposito comunitas e immunitas immunizzarsi contro l'altro da sé e poi ogni tanto con Cacciari che intanto si sente Gesù Cristo togliamola dalla registrazione perché si offende che in una conversazione dice far politica significa oggi dire al tuo prossimo che non è solo questo si sente un buon Gesù Cristo chiaro cosa voglio dire cioè ricostruire il valore di legame questo è il punto ed allora ragionando su questo ovviamente come si stempera il rancore certamente in primo luogo prendendo atto che non tutta la voglia di comunità e cito un sociologo più importante di me Bauman voglia di comunità la voglia di comunità cioè c'è dentro di noi la voglia di essere in comune il rancore blocca la voglia di essere in comune rimanda all'odio l'invidia la paura blocca come si riprende la voglia di essere in comune di ritrovare luoghi che stemperano rancore rabbia paura che ripropongono forme di convivenza perché a sto punto siamo arrivati chiaro? e certo in primo luogo prendendo atto che non tutte le comunità sono buone in sé viene avanti la comunità del rancore è venuta avanti l'abbiamo vista arrivare anche qui sul territorio scusate se banalizzo io l'ho vista arrivare quando anni fa con Galilean e Don Colmegna che verrà quando ci occupiamo di Rom quando ci fu alle porte di Milano che rimanevano lì un po' di donne con i bambini che furono circondati dai fuochi io andai lì a vedere e andai in tre luoghi andai in parrocchia e il prete mi disse era verso Natale il prete mi disse eh caro Bonomi io lo dico al predica ma tutto il circolo parrocchiale mi è contro perché essendo arrivati gli zingari gli si deprezza il prezzo della casa cosa posso fare predico ma allora sono andato al sindacato il sindacato mi hanno detto eh caro Bonomi totalmente d'accordo con te ma i nostri anziani sono tutti lì intorno al fuoco a mangiare le braccioline perché credo che sia la festa dell'unità ed è la festa dell'unità nel quartiere mi capite cosa voglio dire ovviamente è chiaro che c'è una forma dove il rancore diventa pre-politico antropologico forma di la comunità qui è subito che poi si trasforma in le di nos o le miglia di nos primo cerchio secondo e poi arrivi prima gli italiani è un è un processo eh però dico subito una cosa il rancore è una condensa di vite minuscole di sentimenti impoveriti di sentimenti proletarizzati e quindi occhio dico subito a liquidare la cosa con la solita spocchia da autonomia del politico noi del rancore della comunità del rancore dobbiamo occuparci lì ci stanno le vite minuscole per fortuna lo dico oltre la comunità del rancore c'è una forte comunità di cura se posso senza offenderti questa casa è un pezzo della comunità di cura di questa città far cultura significa far comunità di cura e non c'abbiamo bisogno di scomodare i padri nobili quando rossanna e camillo de piaz ragionavano qua di come si incontrava la corsia dei servi con la casa della cultura cioè significa l'intreccio dei due grandi mondi poi un pensiero cattolico comunista non scomodo nulla però questo è il punto forte comunità di cura ma attenzione anche qui la comunità di cura non è solo volontariato associazionismo è esercito dei buoni la comunità di cura è una cosa assai complessa la comunità di cura è fatta anche a mio parere da forme nuove di rappresentanza il sindacato non è solo un pezzo è una canna d'organo del fordismo il sindacato è un pezzo della comunità di cura dei grandi processi di cambiamento lo dico chiaro spero che Andini ce l'abbia in zucca sta roba il sindacato è questo quando lui dice il sindacato del sociale l'interno di questa roba qua ma vado oltre far bene far bene i professori quando uno fa il professore o un insegnante che cosa produce se non inclusione le professioni della cura medici psichiatri assistenti sociali cosa sono se non un pezzo del welfare del novecento che viene rimesso dentro quindi la comunità della cura devo dire siccome siamo cresciuti il problema è che non è che risolvi tutto con un po' di appello ai buoni sentimenti della comunità di cura e dando in testa ai rancorosi il no no chiedo scusa il no dovero è ragionare sulla terza polarità che è quella che io chiamo la comunità operosa questo è il punto e la comunità operosa la faccio breve rimanda ha un meccanismo molto importante che rimanda a ragionare sui modelli di sviluppo sui modelli economici sull'economia che viene avanti e quindi la faccio breve non esiste se non attraverso una visione che metta assieme la cura e l'operosità il recupero dei rancorosi e quindi su questo ragionamento io chiudo sento che per arrivare poi a un altro problema che rimando al libro di Ferruccio sui populismi per capirci e poi io dirò leggetelo molto è bello importante è utile soprattutto perché ha capito che non bisogna occuparsi solo dei populismi dal basso che sono quelli di cui ho elencato io ma anche dei populismi dall'alto quei signori che dicevano ma noi dobbiamo fare una cosa molto semplice tra flussi e luoghi togliere via tutto ciò che sta in mezzo che è il problema per cui ti ritrovi a dover ricostruire cioè parliamoci chiaro oggi siamo qui che dobbiamo rimettere in mezzo la società tra l'economia e la politica flussi e luoghi e sta roba qui cioè rimettere in mezzo ma c'è stato anche un populismo dall'alto o un narcisismo dell'elite che diceva ma no ma chi se ne frega i flussi hanno la loro inerzia talmente potente che non troveranno resistenza ostiamo ragazzi eh e siamo qui a ragionare di questo per capirci e come metterci in mezzo a questa situazione perché non abbiamo capito alcune cose e le dico una sul leghismo mi sono speso a sufficienza mi pare no vorrei spendermi anche su un'altra cosa però che ho visto nascere nella forma più alta e quindi se qualcuno dice vabbè se ho capito evonomi tanto si occupa di comuni polo delle ballate alpine e dice no perché l'altra fenomenologia l'ho vista nascere qua sto parlando di Milano la grande Milano la super metropoli e si chiamava e si chiama i comitati dei cittadini tutte cose onorevoli ma ragazzi ci siamo accorti che a fronte della caduta del patto socialdemocratico con ricerche che abbiamo fatto abbiamo visto venire avanti il comitatismo forma alternativa di auto organizzazione dei soggetti che incorporava attenzione tematiche a noi care molto care certo il luogo la comunità la coscienza del luogo ma scusate quante erano le tematiche ambientali che arrivavano nei commenti di cittadini tantissime o le tematiche di forme di convivenza genere eccetera la faccio breve poi c'è una discussione mi lasciamo spazio alla discussione ho finito e quando io ho visto arrivare il pifferaio magico che li ha messi assieme e con un bel vaffa ha fatto tutto l'ha detto attenzione la forma io sto parlando di composizione sociale è quella roba lì che viene prima della rete il comitatismo è la forma in cui prende corpo una dimensione di questo che arriva poi dopo ovviamente è chiaro che la potenza della tecnica esplode il meccanismo ma la potenza della tecnica ce l'hanno anche gli spaisati chiaro allora quindi allora il vero problema è sono veramente finito io credo che ci siano oggi dentro questa desertificazione dei processi bisogna ricostruire le oasi la sabbia è tanta le oasi sono i luoghi che stemperano il rancore faccio un esempio la dichiarazione della Caritas di Milano della Lombardia del mio amico Gualzetti che ha detto a fronte del decreto sicurezza noi c'è la legge ma noi i 500 apolidi che ci avete regalato non li mettiamo in strada li teniamo a carico nostro è un oasi che dice la comunità di cura fa questo ci sono le oasi ecco bisogna stare dentro le oasi che sono i luoghi di decantazione ovviamente caro Ferruccio rimane il problema di come nelle oasi nel deserto fai la carovana in una fase storica in cui i predoni intorno sono tanti grazie ringrazio il professor Bonomi per questa ricchissima conferenza i temi che abbiamo toccato questa sera sono veramente tanti però penso che abbiate magari il desiderio di porre delle domande di intervenire forse ancora più di quanto non accade in altre occasioni perché è solle un'altra volta però darei tanto la parola al professor Fortuniano se è stato più volte chiamato in causa e poi al direttore della casa della cultura Ferruccio Capelli io non ho nulla da aggiungere se non ringraziare per queste citazioni potremmo conoscerci prima per fortuna come lo ho raccontato c'è da dire anche che la maggior parte di quello che ho raccontato non sono idee mie quindi è un merito che riporto indirettamente agli autori non ho nulla da aggiungere anche perché non voglio rubare tempo l'eventuale discussione dopo questo appassionato intervento penso che cose da dire ce ne siano mi do solo alcune tracce le cose ho scritto il trionfo della moltitudine il rancore sotto la pelle dello Stato l'ultima roba che ho scritto è questo libro con Pierfrancesco Maiorino nel labirinto delle paure e spero alla prossima di poter parlare di Ose e di Speranza abbiamo finito se volete un'altra volta quando Ferruccio vuol presentare il suo libro io vengo più che volentieri a fargli la spalla questa dichiarazione pubblica di chiusura è stato detto giustamente che la Casa della Cultura è uno dei luoghi di mediazione vorrei sottolinearlo e vorrei sottolineare che il nostro strumento principale per la nostra storia e per la nostra identità è stato sempre quello dell'intelligenza critica cioè partire appunto dalla capacità innanzitutto di analizzare abbiamo detto che queste forme così inquietanti di odio diciamo sociale individuale interpersonale sono dei coaguli sono veramente dei coaguli opachi fatti di paura fatti di ira fatti di sospetto innanzitutto analizziamo questi coaguli dividiamoli la psicoanalisi è una forma di analisi proprio che evita il compattarsi la sincreticità di tante forme emotive una volta divise io credo che dovremmo anche dare e parlava di speranze il professor Bonomi delle forme di alternativa pensare appunto se questa società se questa non comunità in realtà non funziona trovare senza alcuna spocchia né fretta alcune forme di alternativa di proposta positiva a quello che è il nostro strumento storico che è l'intelligenza critica se qualcuno vuole prendere la parola abbiamo ancora un po' di tempo e se no la storia delle passioni continua con tutte le sollecitazioni e le provocazioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti